Il leader supremo Virginio Brivio, durante la parata militare di Viale Turati, dichiara guerra a Como e mostra la sua nuova arma, un missile nucleare che altro non è che il matitone di San Nicolò. È solo una delle divertenti immagini realizzate dalla pagina Facebook Living in Lecco Ironically, ovvero vivere a Lecco con ironia, in stile Vaporwave, corrente estetica che fa riferimento alla cultura digitale degli anni 80 e 90 o con classici meme. La pagina castiga con umorismo, più o meno sottile, fissazioni e manie tipicamente lecchesi, spesso prendendo spunto dalle ripetitive frasi scritte sui gruppi di discussione sui social. Prende in giro il sindaco, ma anche chi lo critica in continuazione, punta il riflettore sui problemi della città, come l'assenza di divertimento per i giovani, le opere incompiute, la mancanza di cinema e allo stesso tempo sfotte i cugini comaschi. È mistero sull'identità dei geniali creatori della pagina, che in poche settimane ha raggiunto 2500 fan, un webmaster e un studente di 20 anni, oppure il primo cittadino in persona, come si divertono a suggerire i stessi autori. Tra le immagini ironiche è finita anche Teleunica, con il meme di un lecchese che preferisce guardare le nostre notizie piuttosto che distrarsi con ciò che gli accade attorno. E la foto del TG in stile Vaporwave con la didascalia, sempre preoccupato, partirà ora un'edizione di Unica News per calmarti. La nostra risposta non si è fatta attendere, servizio fatto come promesso, sperando che i telespettatori non siano finiti a terra in preda alle convulsioni, come in questa puntata dei Simpson.